ciao raga fischia che mascello però per fortuna io c'è un ragazzo non è bravo di più come dico io eccolo qua e Nicco che sta dove state? Samminato. Samminato su Pisa o su Empoli? vabbè comunque lui viene in bicicletta sennò viene con l'ape che l'amiche avete visto al raduno con le ruote c'è la più larghe le ruote lui ha l'ape e io sulla BMW va bene ora va detto siccome io certe volte dico chi mi viene da mano e lui è sempre bene o male disponibile niente oggi si è fatto questo motore questo motore è di di Attilio di Attilio e ho un motore R-Carter che avete visto voi quelli tutti bucati sfondati eccoli qua bucati sfondati tutti macinati qui ci passa l'aria di sotto vedete tutti i risaldati eh? Gli ho detto Attilio ti mando ti rifaccio altre Harter però io i Harter come potete vedere sono della pick up si rionoscano da questo cerchio qui vabbè e dalla sigla poi il resto non si vede assolutamente nulla Attilio è quello Mamandachi Grillo che si fa diciamo un cambio un po' alla pari insomma con l'amicizia tu guardi 10 euro più 10 euro o meno niente gli avevo montato in 50 originale un 50 originale che insomma costa diversi sordini originali come se ne trova più si trovano 50 originali va bene io ho detto siccome questo lo devi montato una specie a quattro marce allora i Harter sono pick up 50 originale mi devi mandare un motore a tre marce allora che si fa quella a tre marce gli mettiamoci i 50 originale giusto? si giusto Mire vabbè e niente qui si è montato un bel 75 allora io e lui siamo diventati scemi oggi perché come sapete lui non è meccanico io nemmeno però ci si arrangia e lui è bravissimo ragazzi voleva un'informazione su un'ape ci pensa lui differenziale ci pensa lui 130 ci pensa lui campana ci pensa lui come rimanere a piedi ci pensa lui e ci pensa anch'io perché anch'io ogni tanto rimanga a piedi va bene che si è cambiato gli ho detto io mentre mi sbriga a fare delle cose qui mi cambio questo cilindro mi levi 50 e mi ci monti 75 e lui va bene Mire monti 75 e mezza pedalata mezza pedalata una due tre quattro poi trapano un'ora e mezzo nulla regola le puntine regole di vita regola della sera schiavettato va bene ora si è rimesso la chiavetta si finisce si fa in diretta e finisci monta la candela carburatore che c'è rimasto a fare però io guarda non mi chiamo più Mirelio se ora un parte la chiavetta lo strinta per bene il dado la marmita all'incontrario perché se la metta all'ingiù non ci sta non il supporto qui bisogna specificare le cose guardate guardate come chi mi viene aiutare come lo può stare comodo a sedere e che deve durare fatica poi c'è da verniciare la lambretta c'è da verniciare la lambretta si vernici no ma va smontata aspetta che ti ha fatto spiega un attimino cosa hai fatto allora ho montato l'andela poi ho messo la pipetta la bobina si la bobina la bobina e il filo della bobina dove va a quale filo spiegano rosso a quello rosso no casomai positivo e negativo negativo il quello nero attaccava quello nero vediamo se parte un parte questa piccolo lì perché se no e fa massa se poi si va a carrara si la benzina si mette aspetta sapere la flebo che arriva ma chi c'è si arriva arriva si io ho detto una parola prima speriamo veramente la mia parola sia buona no no fermo è partito non è partito partito basta se un parte più me ne frega nulla comunque è partito riproviamo non c'è aria non c'è nulla comunque riproviamo un attimo non c'è due senza tre no vedi ci vuole l'aria ci vuole l'aria vabbè piglia l'aria ci ci manca una pazienza va bene ovunque va bene ovunque va bene ovunque va bene ovunque attilio il motore è partito funziona bene si mette la massacrazione va bene ovunque attilio il motore è partito funziona bene si mette la massacrazione la cuffia sopra la marmitta a parte quando lo deve buttare sulla vespa lo butta sopra anzi si metterò anche il gommino lo butti sopra e belle festa finita e aspettiamo i tre marci ovunque io ringrazio tantissimo nicolo su instagram trattino basso official pieri trattino basso se capì una sega d'accordo d'accordo beh motore è partito ci siamo divertiti oggi no si è piovo come dio la mandava ora c'è un sole che spacca le pietre va bene un salutone ragazzi anzi vi faccio vedere un attimino il nuovo acquisto il nuovo acquisto il nuovo componente della famiglia decreto non so dov'è eccola reggela te qui alla luce e lei si chiama fuma fuma ha visto come fuma ciao ragazzi